Ehi ra, salve a tutti, sono ThePlayer96 e benvenuti in questo nuovo episodio della mappa diversity Allora, nello scorso episodio abbiamo completato la parte arena Come vedete ragazzi, oggi sono da solo Sono da solo perché? Perché Witherboy è una testa di minchia e ci abbiamo litigato Per cui, ormai la mappa la continuo da solo Che cazzo Ti puoi togliere Ok, sì ragazzi abbiamo organizzato sta cacchia Dropper Oddio Cos'è? Devo esplorare il villaggio Oh, guardalo Lo butto giù Sì Quindi Ah, bisogna cadere nel pozzo Oddio È uguale a te È come TheDropper Che bei ricordi me Ho sbattuto l'ultimo Oddio, sono caduto da solo Sono caduto da solo È difficile Ma Oddio, non sono più capace di fare le mappe dropper Già di avascarsi in TheDropper Ok, è il primo, ce l'ho fatto Io no Che bello Andiamo Dove sei? È al secondo livello Ah, retanto Vediamo qua sotto Oddio Questo è difficile Il secondo è un pochino più difficile No, ho sbatto l'ultimo ogni volta Ma sei arrivato? Sì O sei ancora il primo? No, sei arrivato Ma se te... Madonna, ma... Cioè, mi spona la roba all'ultimo perché c'ho la visuale a normale Devo metterla su far Aspetta Sì, c'ho la normale Eh, ma devo metterla su far perché altrimenti non vedo finge in fondo Non ti faccio rosicare Ecco L'ho messa del... Oddio, non riesco più a fare È bello che potevamo fare tipo fail Come fail? Tipo... Ah, tipo TheDropper Eh Ok, ce l'ho fatta Andiamo Andiamo Ah, ok, non te le trasporta anche l'altro Oddio La neve Eh, no, no Ti fa tornare all'inizio Oh, oh, sono caduto per sbaglio Non volevo cadere Ecco Ok, no Questo è un pochino più complesso Porco D Sco Eh Il disco è sempre... Ti parla black dance Eh Se l'ho fatta Ma io non ce la fo È facile Ma non è facile che no Ma a me spona la roba all'ultimo Non riesco a vedere Ma che dici? Oddio, si è messo a nevica Oddio, oddio, oddio Ma porca vacca È morta alla fine, vero? Sì Eh, ho visto di me una polvere bianca Oh, gliela fa Eh, l'esperienza di The Dropper Ti aiuta a fare queste mappe No, non è vero E mo? Ma bisogna andare qua dentro? Ma questo è il dungeon della giungla No, 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 no Ah, no, sì, sì, sì Ho trovato il bucio Oddio, questo è complesso Ma se io vado qua Ma se io vado qua Tu vuoi essere per te Ok, no È più completato È più complicato del previsto È più completato È più completato Dell'inizio Perché volevo dire che c'erano più ostacoli È più completo È più completo Ma guarda che mi spumbe la roba Mentre cado e non vedo dove vado Basta che vado a sinistra È facilissimo Tutto a sinistra o a destra? Sì, ma io non sono capace A sinistra A sinistra E io vado a destra Non gliela fa Aspetta, se vado nell'angolino In cima a destra No, che c'è l'ostacolo Vaffancazzi Aspetta, magari un po' più in qua Mamma mia Non gliela fa Mamma mia La banana hai tu Ai ai C'è l'ai nelle chiappe Non gliela fa Non gliela fa È facile No, all'ultimo 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 Mi viene nervoso quando muoio all'ultimo Cosa ha combinato? Si è sentito un casino assurdo Non ce la faccio È difficile È difficile È difficile Faccio affatto È Intanto sei ancora qua su È perché Ce l'ho stato io È sì, sì È sì È sì È suicidato Proprio Non gliela fa Ragazzi Oh Ok, io vado avanti C'è il deserto C'è il deserto E faccio lo stronzo Eh, faccio lo stronzo che sì È tanto muoio 200 volte Oddio, questo è impossibile Mi tippi Mi tippi Mi tippi E vediamo Non lo so Wither boy Da me Non gliela fa tippare Aspè Ok Ma a me non spawna la mappa Non riesco a vedere dove vado No, sono ancora qui Perché? Ah, bisogna stare sul versante destro Sono ancora qui Su la mappa Sull'altro livello Eh, perché non ti segna il checkpoint Se ti tippo Non riesco a capire come farlo È difficile questo Mamma Sono morto proprio all'ultimo Ok, ok Sì, 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 sì Ce la fa E ce la fa E ce la fa Ma dove stai? Ma aspetta Ti tippo qua Ok Premi il tasto Così ti salva il checkpoint Non funziona Oddio, è l'end È mo? Ok, ragazzi Eccoci qua Oddio, cosa bisogna fare? Ma a me non spawna la roba Non so come fare È difficilissimo Sono vivo Sono vivo Aspetta Mi rigenero la vita E scendo così Aspetta Pensa così è il trucco Ok Ok Aspetta Rigenero un attimo No, mi sa che non è da far così Però ormai che ho scoperto Che si può fare così Ma potevamo fare così Su tutte Alla fine Eh, mi sa di sì Se muoio Mi incazzo Ok Eh, no Questo è alto Dobbiamo aver vita piena Eh sì, eh sì Guarda come muore Oddio, oddio Ok Mi stavi spingendo No, questo è troppo alto Vabbè, io mi butto Tanto vedo dove è l'acqua Ok Ragazzi abbiamo leggermente eccitato Ma Zitti, zitti Ok Oddio il nether Dove devo andare? Qua sotto Siamo guardati Mi genera la mappa Mannaggia sto server che lagga Non larga A me sì Non mi genera la mappa Vai È difficile Ragazzi, saprò che fare È impossibile Non riesco a capire dove vado con sto fuoco Oddio, sono vivo Sono vivo No, ok Pensavo di essere vivo Sì, ma se forse mi generasse tutta la mappa ad un botto Riuscirei a vedere dove ci sono gli ostacoli Invece no No, ma non ti metti qua Vabbè, però basta con un Non ce la faccio No, ragazzi, questo è difficile, eh No, per poco No, va in camera Ma cosa stai dicendo? Perché parli di roba a caso? Mannaggia All'ultimo All'ultimo sono morto È impossibile questo? Sono morto all'ultimo No, ho capito come farlo È impossibile Oh no, no, è facile Soltanto che becco dentro perché non mi mostra tutta la mappa Ecco Mi genera l'ultimo quando cado E io devo andare proprio a caso per beccare il bucio Vediamo Mannaggia Non gliela faccio Sì, ci ho fatto Come fai? Dove devi andare? Dove devi andare? È buono, lo so Perché è nel dragon? Ah no, che Ce l'ho fatta Ok ragazzi, andiamo Ender dragon? Ah, perché siamo nel land Ah, è già una caduta Io vedo Io sono messo No Che cu- No Sono passato nel buchino ma sono morto appena dopo Che sfiga Eppure io Eh, adesso ribeccarlo il buco Qua adesso c'è sta due ore Sì, ma anche loro Sì, ma anche loro il buco di uno mi mettono Ma è difficile Mi sa che è l'ultimo questo perché è tanto difficile Perché la parte iniziale è facile La parte iniziale è facile È il buchetto che è l'unica parte difficile Guarda che muoio sul buco Te l'hai, non vedo Ecco Non vedevo dove andavo È neanche io Eh Eh, eh Non gliela fa, ragazzi Non gliela fa Ce l'ho fatta Come fai? Come hai fatto? Spiegami il trucco Faccio il trucco Oh No Mi sono ucciso con la salita Ma perché sei ancora qua? Sei morto all'ultimo Guarda che muoio Ma è difficile Ma non è difficile Deve averci culo Guarda che non c'ho culo però Oh Sto a fare la macari Ah, ok, no Eh 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 Sì Ok Dove devo andare? Oh, calostruzzo Oh, madonna Come hai fatto? Non lo so Però io faccio così, va? Mi sono preso un infarto Cosa fai? Perché? Ma sei stupido Oddio, vado piano che se cado adesso Mi incazzo Oddio, questa parte è più pericolosa del cadere Oh, abbiamo finito Vai Ok, ragazzi Diciamo che Metti il cubo Abbiamo finito un'altra parte di mappa Adesso tenteremo di fare Allora Io direi che il trivia però Verranno tante tante parti Perché il trivia Ci sono 30 domande da fare Quindi ragazzi Io direi che ci vediamo al prossimo episodio Con Vediamo cosa c'è dopo Abbiamo fatto dropper Quindi abbiamo il labirinto Sono tre livelli Quindi è semplice Quindi Di Radio Pera di 96 È with the boy È tutto È tutto Ciao a tutti Ciao